Wella ragazzi, ciao a tutti da NIC raga, bentornati su Farming Simulator 25 Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati E poi come sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare magari anche un bel mi piace Allora andiamo a restituire un po' di debito alla banca, oggi in questo terreno ci vorrei seminare l'erba Visto che abbiamo gli animali che mangiano tanto e però sinceramente come vi ho già detto anche nel gameplay scorso ancora non ho di preciso Non mi sono fatto ancora una buona idea sulle vacche, se mi conviene tenerlo oppure no perché mangiano uno sproposito e non lo so Non so se alla fine ci vado a guadagnare perché mangiano un botto e giusto questa cosa non mi convince Mangiano parecchio, mangiano tipo 2000 euro al giorno e sinceramente non mi pare che salgono tanto di valore Quindi ho sto dubbio, ho sto dubbio, ho sto dubbio sinceramente, parecchio, parecchio Oh ma se no, non lo so raga veramente, ci sto pensando, cioè avrei quasi più voglia di prendere e mettere le pecore Cioè ho quasi più voglia di buttare via tutto, togliere gli animali e metterci le pecore Ci viene fuori un recinto mostruoso qua Secondo me ci viene fuori un bel recinto Perché questi animali non me convincono e li devo vendere pure adesso se li voglio vendere Perché tra poco scendono di valore appena finisce il cibo Appena il cibo finisce questi perdono valore quindi se li voglio vendere è meglio che li vendo adesso Prima che, eh già è finito il cibo quindi Ci avrei voglia, quanto valgono? 20.000 euro, gli do 3.000 euro di cibo al giorno dimmi te se mi conviene tenerle Secondo me non conviene tenerle, io le vendo raga, via Me le tolgo Secondo me non conviene tenerle, non lo so, per me non mi conviene Gli do tanto da mangiare ma anche se produco erba io L'erba che produco non mi basta Perché ne consumano tantissima Consumono un mucchio di erba E il valore non è che sale tantissimo Io penso che con le pecore e la lana ci guadagno molto di più Io penso, voglio dire Cos'è è passato tipo più di un anno da quando ho messo Un anno di gioco, più di un anno di gioco è passato da quando ho messo le mucche Ho fatto 20.000 euro Però gli ho dato probabilmente più di 10.000 euro di cibo Ma più, quindi non ci si guadagna granché Invece le capre dal latte mi stanno a fare un botto di latte Quindi sinceramente le mucche, boh, non mi convincono Questo lo tolgo, mi danno 7.000 euro Che a diavità ci ho perso, ah, perché il recinto l'ho pagato un po' più caro Cioè a diavità ci ho perso Non ci ho guadagnato niente dalle mucche Non ci ho guadagnato niente Quindi Io Allora i cavalli I cavalli I cavalli sarebbero Beh, devo spendere 25.000 euro però Che so qua No, 25.000 euro se voglio mettere i cavalli Però il problema dei cavalli è che ci vuole fieno No, ci vuole di tutto Carote Cosa ci vuole? Sorgo, avena, fieno Ma il problema dei cavalli è che bisogna portarli a passeggio E bisogna Ehm Sono complicati pure loro insomma Parecchio complicati sono i cavalli E non lo so se si guadagna dei cavalli Insomma, il fatto è che Insomma, sapete qual è il discorso? Siccome non mi va di fare esperimenti che immagino non mi portano soldi Preferisco prendere ciò che porta soldi E io penso che di sicuro Le pecore mi fanno fare soldi Pecore, galline, api Pecore Facciamo pecore, va? Allora, pecore, modalità libera, sì Appiattimento non riuscito Ma che stai a dire? Lo mettiamo un po' più indietro Voglio lasciare stavolta più spazio qua C'è lì ho i soldi, no? Per mettere questo recinto La volta però lascio un po' di spazio in più lì sotto per muovermi C'è già solo di quello che comunque mi costa il recinto Ok Ok, allora di là abbiamo le capre che fanno latte Qua voglio fare il... La lana Qui voglio lana E... Mi sa che vado a mettere già quelle belle pronte Quante ne posso mettere? 35 35 so, 18.000 euro Vai Chiedi Le prendo già belle pronte per fare la lana Qui, le capre ce le abbiamo già Voglio... Di montagna, no? Quelle classiche Facciamo metà a metà Facciamo 17 di un tipo Mischiamole, va? Compra Compra Ok Allora, tanto queste pigliano sempre erba Quindi va bene Gli devo dare acqua Ed erba Facile Ok, allora Dunque, mi ero già preparato Mi ero già preparato Dov'è? A parte questo No, comunque io penso Ragazzi Che mi conviene Ah, io penso Mi conviene Perché sono rimasto un po' troppo deluso Dalle... No, dalle mucche Sono rimasto un po' troppo deluso Mangiano uno sproposito E non salgono molto di valore Cioè... Cioè Anche solo tenerle Per farle riprodurre Richiede un mucchio di tempo E anche se si riproducono Ovviamente La mucca giovane Non vale granché Quindi siamo sempre lì per lì Cioè Boh, non lo so Non mi convince Non mi ha convinto Magari forse la mucca da latte È più conveniente Perché il latte Come la capra Sono soldi, no? Magari quello sì Però Per quanto riguarda Cioè Queste qua da carne Non mi convincono Se magari la mucca da carne Si poteva tipo portare a macellare E allora magari Me la pagavano tre volte di più Allora dico Ok, dai Caspita Vale la pena Ci faccio la carne Ma siccome purtroppo Farming Essendo un Peggy 3 Non prevede Macellazioni Insomma Dato che il gioco È anche Un gioco Che Insomma È dai tre anni in su Quindi Quindi per quel motivo lì Non c'è la macellazione E insomma Il problema è quello Almeno con il latte Ci fai tante altre cose La carne non esiste Le mucche le vendi e basta Però Le pagano Non mi convince Quel prezzo lì Insomma Con tutto quel cibo Che mangiano Non mi convince Preferisco 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 un animale Che mi produce Preferisco un animale Che produce qualcosa Che con quel qualcosa Ci faccio sempre qualcosa Appunto In più Con la lana Ci facciamo i vestiti No E Diciamo poi Che anche ai cavalli È simile il problema Anche ai cavalli Se è rimasto Come Farming 22 Che valgono sempre 5.000 euro Alla fine Diciamo Della maturazione Lì Dell'addestramento È poco 5.000 euro Li paghi 500 Li vendi a 5.000 Ma dopo tutto Il cibo Che si sono mangiati Pure Ne vale ben poco La pena Allora Vediamo un po' Ma sbaglio Questo carrello E a noleggio Lo vado a restituire Che ci devo fare Veicoli Se a noleggio Eh lo è Indietro Non mi serve più Non mi serve C'ho quello Che l'ho comprato Adesso Allora Prendiamo Il mulettino Eh sì raga Sinceramente Io penso che Le pecore Adesso Dalla lana Mi faranno tanto Penso che farò Tanto di quella lana Che almeno Ci guadagno Seriamente qualcosa E poi non c'è Quel discorso Della razione Mista Almeno Gli dai solo erba Un po' D'acqua Ha fatto tutto Mi pareva strano Sinceramente Che reggeva Ma Beh se non prende C'ho sempre Il mixer Ah prendo Alla grande Invece Anzi Che poi Oltretutto La mangiatoia La mangiatoia Delle Pecore Richiede poco Eh La mangiatoia Delle pecore Richiede pure Pochissimo Eh L'altra Con due balle Di L'altra Con due balle Niente Ci fai Qua 3000 E 3000 Qua è 3000 Quella balla Gliela lascio Lì Però Aspetta un attimo Allora Vorrei Togliere Qua Mi pare brutto Vedere così Vorrei un po' Di vernice Tipo Erbosa Che ora Mi pare brutto Vedere così Qua Piante Ok Io la balla La terrei Qua In teoria L'acqua Non è un problema Giusto Però Mi pare Mi pare Che non esiste Una piccola Tettoia Una tettoia Banale Qualcosa Di Stupido Da metterci Sopra In teoria Non esiste Una cosa Come a questa Ma più picco Molto più piccola Tipo Ma non credo Che esiste Mi sa di no Non ci posso Mettere niente Sopra No Sopra Non ci posso Proprio mettere Niente Comunque Le capre Eh le capre Tipo Stranamente Prendono Di più Cibo Ah Quello E' un recinto Più grosso Più costoso Anche Vabbè Basta che Quella balla L'ho messa La Non penso Che se metto Questa balla Per terra La prendono Perché Mi avete Detto Il trigger Sotto Terra Aspetta Ma se Il trigger E' sottoterra Che quindi Per qualche Strano motivo Appunto E' sottoterra Non mi basta Tipo un pochino Scavare Che risolve Il problema No Non fa scavare Avrebbe stato Troppo bello Ma non fa scavare Da nessuna parte Ah quasi Stavate Non funziona Non fa scavata Per tutto Ah si E' il trigger Sotto terra E' Quindi Non la prende Questa balla Vogliamo mettere La balla Qua dentro Per conservarla Ma aspetta Effettivamente Facciamo così Tanto questo Non mi serve Non serviva Un bel niente Già da prima Posso conservarla Qua dentro Ehi sto Posso pure Parcheggiare a lui Un altro po' Mi sono incastrato No La balla Non la devi prendere Volevo parcheggiarmi qua dentro Non si vede niente Ecco Un po' stretto Un po' stretto Quindi qua faccio Latte E lì faccio Lana E' buona A meno Penso che la lana E' un affare Penso che con la lana Non posso sbagliare E sinceramente Andare avanti Andare lì A buttare Un mucchio di soldi Per le Vacche E guadagnarci Una miseria Eh no Scusa Prefisco guadagnare Qualcosina di più In teoria L'acqua Già posso raccoglierla No si Ok Allora A che punto Siamo con La Questione Semina erba Quasi fatto Devo andare a riparare Un po' queste cose Però Anzi Mi sa che ha già finito Perfetto Allora Un'altra cosa Per esempio Che manca Come realismo Ma io penso Che poi con le mod Si risolve tutto Un'altra cosa Che manca E Dato che tra poco Arriva il tornado Ecco Mettiamo caso Che il tornado Colpisce un recinto Nella vita vera Penso che le capre Volano via E non fanno una bella fine No Quindi il discorso E' quello Sicuramente Se passa il tornado Sul recinto Delle Degli animali Non succede un bel niente Non è insomma Che muoiono No Però Se era un po' più realistico Insomma Doveva succedere Che L'animale Magari qualche animale Doveva scomparire Non dico Che doveva dire E' morto un animale Ma Cioè Che qualche animale Si perde No Se passa qui il tornado E' ovvio Che qualche capra Vola via No E' pecora Quindi Mi pare ovvio No Alla fine comunque Mi trovo costretto A tenermi il mixer Giusto perché Se no le capre Non so come fare A dargli da mangiare Dovrei aprire Dovevo aprire Quello però Devo Togliere anche Quell'atte di capra Effettivamente Che dobbiamo andare avanti A proposito A proposito A proposito A proposito Caseificio Eh Latte di capra E' già quasi pieno E' quello Formaggio In Immagazzinamento Il formaggio di capra Quanto vale Se magari E' da vendere No Non è da vendere Però Di la verità Il prezzo Cambia poco Formaggio di capra Si può vendere Un po' Quando vuole Perché Il formaggio di capra Da 4,8 A 5,6 La differenza E' piccola Cioè Il formaggio di capra Volendo Lo potrei vendere Tutto l'anno Comunque Io penso che Adesso Con quel terreno A erba Ce la facciamo Veramente Perché Fintanto Che avevo Le mucche Non ci basta L'erba Mangiano troppo Penso che Ora Con quel piccolo Terreno A erba Riesco Tranquillamente A tenere Capre E pecore Ma Non penso Che era Fattibile Con Non penso Che era Fattibile Con quelle Vacche Mangiavano Uno sproposito Io penso Che ora E' fattibile Penso che ora Quel piccolo Terreno A erba Mi basta E mi avanza Tranquillamente Per tutto Però Con le Con le mucche Lì No Le mucche Di cavolo Allora Dunque Ricapitolando Questo è arrivato Per terra Ci stanno Un po' Di semi Ma me li riprendo Ovviamente Tra poco Torna il Tornato Eh C'è parecchio Danno De fatti Qua Effettivamente Oggi Sapete cosa Stavo leggendo Oggi Leggevo Che Qualcuno Scriveva In inglese Oggi Ho letto Ma I trattori Si Si scassano Prima Cioè Oggi Leggevo Che Scende Più Velocemente La barra Dei danni Della barra Del carburante Come dire Che Come dire Che dura Più il carburante Del Che Del Insomma Si fa Si fa più spesso Riparazioni Che carburante Ed effettivamente Doveva essere parecchio Il contrario Doveva più Consumare carburante Che Insomma Si doveva consumare Più carburante Che Che danni Allora Dunque Ho dato Da mangiare Quindi Le capre Fanno tranquillamente Latte di capra E le pecore Fanno tranquillamente La lana Finalmente Allora Mi sa che E' meglio così Dunque Vado A Togliere Il Formaggio No Cos'era Dobbiamo Fare formaggio Quindi Andiamo a prendere Ma Mi sa Che possiamo Andare Col gioco Veloce Perché Abbiamo Fatto Tutto Veloce Grazie a tutti. A voi a formaggio qua me ne fanno così tanto. Qui si nota veramente che ci si guadagna. Eh, e se consuma pure, eh. Allora, mi serve... Mh, pigliamo questo. Devo fertilizzare il campo ad erba. Perché poi per l'erba abbiamo più o meno già tutto. Ci abbiamo... Perché poi mi serve adesso solo erba. Non è che devo fare le balle, perché adesso fieno non me ne frega più niente. A me serve adesso solo fare erba per capre e pecore. Tutte e due si accontentano dell'erba. Non mi serve neanche il voltafieno. Non mi serve neanche il voltafieno. Ma che fa? Allora... Su questo terreno. Questo piccolo spaggi fertilizzante per ora ci basta. Chiaramente magari potete... Potete dirmi, Nick, vabbè, ti si danneggiano gli attrezzi perché lasci le pietre. Però comunque... Si danneggiano un botto, direi. Però sì, le pietre le vorrei togliere. Il problema è che per togliere le pietre devo spendere tipo 80.000 euro. 65.000 euro come minimo. È un cifrone. Ed è molto lento toglierle. Mi sa che tra poco ci dobbiamo abbeccare il tornado. E stavolta... Devo vedere i danni che fa. Non importa. Stavolta non ho scelta. Stavolta i danni ce li dobbiamo tenere. Quello che potevo fare l'ho fatto. Ma il raccolto non lo posso... Cioè, mica posso trebbiarlo prima. Quindi vediamo che danni fa. Allora, salva partita. Bono. Quindi ho fatto tutto. Gli animali hanno tutto. Gli animali hanno cibo, hanno acqua, non gli manca niente. Le fabbriche hanno tutto quello che gli serve. Il latte gliel'ho dato. Ho messo le pecore. Ho fatto le riparazioni ai mezzi. Mi pare che non manca niente. Ho messo un po' di acqua alle serre. Ho fatto tutto. Va, mettiamo il gioco veloce. Ma niente. Penso che l'unica resta a vedere sto tornado. Che danni fa. Perché alla fine, gira che ti rigira, non c'è altro che devo fare. C'ho il raccolto che deve solo crescere e non posso fare nient'altro. Allora, qua è fertilizzato al 100%. Qua pure. Vediamo se il tornado appare nello stesso posto dell'altra volta oppure è casuale, appare in un posto diverso. L'altra volta è apparso il tornado lì sotto. Inizia a piovere, quindi il tornado sta per arrivare. Eccolo. Ora, non so dove si trova. Vediamo se nasce nello stesso identico posto dell'altra volta. Ah, sempre lì, eh? È più o meno sempre... Ma forse nasce proprio lato costa il tornado. Però segue forse un percorso diverso stavolta. Stavolta pare che segue un percorso diverso. Ah, me lo mostra anche sulla minimappa. Stavolta forse il tornado non viene a rompere le balle da me. Pare che stavolta se ne va lato mare. Quindi il tornado... Quindi diciamo che... Se per esempio il tornado a voi vi fa un mucchio di danni e non vi va, insomma, di pigliarlo in quel posto, ricaricate la partita e... E il tornado magari segue un percorso diverso. Difatti il tornado stavolta non ha fatto minimamente danni. Stavolta il tornado è andato mare mare. Quindi per fortuna non l'ho presa in quel posto. Per stavolta, eh? Non è che ho voluto barare la volta scorsa. È che c'avevo... Cioè, tecnicamente... Siccome c'è un terreno da trebbiare... Ma che cacchio è quella roba lì sopra? Che pare che ci stanno... Ah, sarà uno di quei... Per me lì sopra ci sarà qualcosa. Comunque non è che volevo barare la volta scorsa. È che avevo un terreno da trebbiare. Ho detto, non è che soppirla. In teoria è meglio prima trebbiare e poi... Vedere gli effetti del tornado. Ed è quello che ho fatto adesso. Prima volevo vedere... Prima volevo... Trebbiare e poi... A come andava, andava. Cioè, ovviamente... Se il tornado ora mi beccava... Se il tornado mi beccava... La farm... Pazienza, amen. Oh, eccola qua. Immaginavo che ci poteva essere qualcosa qua. Ok. Comunque mi è andata bene. Niente danni da parte del tornado. Mi è andata bene. Belle queste luci che ho messo. Siamo a luglio. E mo' c'è da trebbiare... Questo terreno qua. Terreno credo a frumento, mi pare. Ok. Quindi... Ah, voglio vedere le pecore in 12 ore circa cosa hanno fatto. Eh, vedi che le pecore già iniziano a fare la lana? Almeno fanno già qualcosa che vale soldi. E già è mezzo pallet di lana che mi hanno fatto. Mi hanno fatto... Quindi forse mi fanno un pallet di lana al giorno, più o meno. Può essere che fanno all'incirca un pallet di lana al giorno. E non è che mangiano tantissimo alla fine, eh. Un pallet di lana al giorno... Quanto vale? Diciamo, più o meno. Penso che sarà all'incirca... Non lo so, penso che sarà un pallet al giorno forse. Qualcosa di simile. È un pallet di lana al giorno. Quanto può valere? Lana... 3.000 euro? Eh, beh, cacchia. Oh, vuoi mettere e fare 3.000 euro al giorno dalla lana? Invece della mucca gli davo 3.000 euro al giorno di cibo? E non vedevo una lira? Gli davo 3.000 euro al giorno di cibo e non vedevo un centesimo. Queste mi fanno 3.000 euro al giorno? Scusa, è meglio 3.000 euro al giorno dalle pecore che dare 3.000 euro al giorno di fieno alle mucche senza vedere una lira? Quindi, sinceramente, mi trovo bene con le pecore. Ok, c'hanno pure il prato, eh. C'hanno pure il prato, quindi col prato capace che... Non gli devo neanche dare molto cibo. Perché 7.000 di prato equivale a 1.500 euro di fieno. Una balla di fieno, quindi. È come se c'hanno una balla di fieno di erba, già. Per terra, c'è il prato, c'è la balla di fieno che gli stavo a dare. Perfetto. Meglio di così. Qua ci stanno le capre che ogni giorno mi fanno un botto di latte. Altri 600 litri stanno qua, di latte, voglio dire. Caspiterina, raga, a me conviene così, altro che. Ok, allora, ragazzuoli, qua il tempo è volato, come sempre. Mi sa che devo andare a concludere. No, sto bene così, raga, preferisco aver preso le pecore. Almeno vedo soldi veri. Che poi, che poi c'è anche il discorso che probabilmente adesso potrei prendere anche una mini filanda. E poi posso fare, come si chiamava, il tessuto. Che il tessuto vale 15.000 euro. Anche se, ovviamente, ovviamente non è che da mille di lana mi fa mille di tessuto. Me ne fa di meno, ovvio. Vediamo, filanda, tessuto dalla lana. Da tre di lana, uno di tessuto. Ok, almeno è bello pure saperlo. Quindi, il 33% di lana diventa... Vabbè, comunque è uguale, è sempre soldi sono, no? Perché, allora, la lana vale... La lana, abbiamo detto che vale 3.500. La lana vale 3.500. Quindi, per fare mille di tessuto ci vogliono 10.500 euro di lana. 10.500 euro di lana per fare 15.000 euro. Mi conviene. Mi conviene. Per fare, quindi, un pallet di tessuto da 15.000 euro, mi serve 10.000 euro di lana. Quindi, da 10.000 euro di lana, ci faccio 15.000 euro di tessuto. Quindi, se la lana la trasformo in tessuto, ci faccio 5.000 euro. Mi straconviene. Ci guadagno il 33% in più, 30% in più, se faccio tessuto. Buono. Poi, dopo ci stanno gli abiti, ovviamente, dal tessuto, 32.000 euro. E anche lì, la sartoria dovrebbe essere... Non so se la sartoria c'è già di base qua, ma mi sa che non c'è la sartoria già di base. Quindi, non so la sartoria... Ma la sartoria, probabilmente, sarà 2 tessuto, 1 abito. Quindi... Boh... Beh, a quel punto non mi pare molto conveniente. E effettivamente gli abiti, forse, non sono convenienti. Perché se da 2 di tessuto ci faccio 1 abiti, in pratica ci guadagno un bel niente. Perché ci vogliono 30.000 euro di tessuto per fare 32.000 euro di abiti. A quel punto non me conviene. A quel punto è meglio fare solo tessuto, no? Va bene. Comunque, di sicuro, le pecore sono più convenienti, soprattutto all'inizio, delle mucche. Secondo me la mucca forse è meglio prenderla quando si prende la mucca da latte, forse. Almeno mi fai il latte, con quello ci faccio formaggio e tant'altro, più soldi. Perché, di fatto, il problema della mucca da profitto è che l'unico profitto è che la devi vendere. Non ci puoi fare un profitto diverso da quello. Invece, con il latte c'hai tanti tipi di prodotti. Dalla lana ci sono varie cose che si possono fare, poi magari, no? Più conveniente, direi. Va bene, ragazzi, concludo. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, vi ricordo in descrizione il link per comprare questo e tanti altri giochi scontati. Ciao, alla prossima, ragazzi. Tutti la vostra piaciuto. Ciao, man. Ciao, al prossimo. Ciao, al prossimo. Ciao, al prossimo. Ciao, al prossimo.